Le vernici ignifughe e firewall bloccano i fucolai d'incendio attraverso la combinazione di tre meccanismi. L'emissione di gas che allontanano l'ossigeno inibendo la combustione e la propagazione delle fiamme. La formazione dell'intumescenza, uno strato di schiuma carboniosa e compatta che ha la funzione di bloccare le fiamme. La vitrificazione del film di vernice, una reazione chimica che porta alla formazione di uno strato compatto che isola dal calore e dalle fiamme. Nelle vernici firewall abbiamo evitato l'utilizzo di prodotti plurorati e bromurati che possono emettere fumi dannosi. Abbiamo invece utilizzato nanotecnologie basate su ritardanti di fiamme inorganici. I cicli di verniciatura firewall, sia a base acqua che a base solvente, prevedono l'applicazione di una o più mani di fondo e di una mano di finito in campo. Le grammature applicate dipendono dal grado di protezione richiesto. Le grammature applicate dipendono dal grado di protezione richiesto. Grazie a tutti.